Era inaspettato anche per noi, però sapevamo che con la cattivella giusta, la grinta giusta potevamo ottenere risultato anche perché in campo si va 11 contro 11, alla fine quello che conta i fatti, noi i fatti li abbiamo fatti sia domenica che oggi, sappiamo che è un campionato molto difficile, se non mettiamo quel 110% in più dell'avversario, anche perché siamo una neopromossa, è difficile fare il risultato, anche perché Lecce e Messina sono due squadre molto attrezzate per i livelli alti della classifica. Sì, è stata una bella partita, il nostro rammatico sicuramente sta nel fatto che sul 2-1 abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiuderla e non l'hai chiusa, purtroppo il calcio è questo, quando non chiudi le partite poi c'è il Messina, trovi nel Messina una buona squadra e ti pareggia, alla fine hai rischiato pure di perderla sul 93esimo, su un calcio d'angolo di Stefani. Cosa è mancato a Roma, a tutti i 20 minuti dopo il 2-1 per piazzare il corpo del capato? È mancato, purtroppo ti dico, le occasioni ce le abbiamo avute, forse dobbiamo essere più concreti sotto porta all'ultimo passaggio. A Roma contate di fare innamorare parte della tifoseria che come sappiamo è stata indivisa e strutturata, com'è pensato di fare campagna acquistica ai tifosi? Purtroppo noi ci alleniamo Casal Palocco che è un quartiere di Roma e giochiamo ad Aprilia che è tutt'altra parte, però la gente dove pure domenica c'erano 2.000-2.200 tifosi un po' sparsi per tutta Roma, cerchiamo di far bene, poi l'entusiasmo viene facendo punti, giocando bene con le prestazioni, poi il tifoso si innamora anche perché noi non partiamo con una tifoseria. Avete in questo senso uno stemma di Partizan? Sì, questo è uno stemma che, dici sulla società, è uno stemma che rappresenta, diciamo, Roma. Va bene? Mi porta anche bene Messina, hai un bel ricordo? Sì, è un bel ricordo, ho fatto il mio primo gol in Serie A contro il Messina, poi al ritorno vincemo anche 2-1 all'89-93, condannando quasi, tra virgolette, alla retrocessione, però sì, è un bel ricordo, poi purtroppo è passato, al presente. Quali sono le cose di questa nuova avventura della partita? Io cerco sempre di dare il massimo in campo, sono un ragazzo che va sempre oltre il 100%, so che le cose a me non mi ha regalato mai niente nessuno, a me le devo guadagnare sul campo, spero che facendo prestazioni mi sia data un'altra possibilità per ambire palcoscenici diversi. Grazie a tutti.